Luca Busillo, responsabile commerciale del settore videoproiezione di JVC Chemwood, un bilancio direi positivo per questa edizione crossover tra sintonie e audio-videoshow? Sì, risultato positivo, ieri abbiamo registrato una forte affluenza di pubblico, la sala era piena a tutte le sessioni, abbiamo avuto delle ottime informazioni da parte dei nostri clienti che hanno molto apprezzato la nostra macchina, il DLA NX9, il top di gamma e la nuova funzione del frame adapt che abbiamo presentato quest'anno qui a Sintonie, dopo due settimane che il firma è stato rilasciato sul nostro sito. Senti, come mai la scelta di utilizzare solo e esclusivamente questa macchina top? Sicuramente non è per tutti. Ma a Sintonie sicuramente tutte le aziende hanno portato i loro prodotti migliori, quindi è una cosa che anche noi non potevamo evitare e abbiamo deciso di portare il nostro top di gamma per dare anche risalto a quella che è la manifestazione, al nostro brand e ai nostri prodotti. Ok, diciamo anche due parole sul sistema audio che è stata anche una bella sorpresa per una stanza così grande, sono 64 metri quadrati con dei soffitti alti credo 4 metri e mezzo. Sì, una sorpresa positiva dal punto di vista anche dell'audio, perché è piaciuto molto il nostro sistema Citation 5.1 di Arman, un sistema anche dal design molto accattivante, ha un prezzo direi interessante per il nostro pubblico e quindi veramente tra il nostro top di gamma, il DLA NX9 e la Citation, la parte audio, abbiamo veramente dato un'ottima prova di noi stessi e della forza della nostra azienda. Grazie Luca e a presto. Grazie a voi, ciao.